Era prevedibile che prima o poi cambiasse lo sfondo dei nostri riti quotidiani. La casa, la strada, l'ufficio erano le scenografie esemplificative ricorrenti. Lì succedevano i fatti che segnavano la nostra vita attiva. Ha tardato un po' sul previsto, ma è arrivato il nuovo fondale per ambientare azioni significative della nostra quotidianità. Il supermercato, il mercatone o come diciamo noi nella neolingua multietnica che pratichiamo Spavaldi, l'outlet. E cioè il mega negozio di tutto quasi. Nel cui spazio, sempre più espanso, si ritrovano tutte le necessità che una mente commerciale superiore, un grande fratello impreditoriale, ha immaginato per noi. Dal pannolino all'enciclopedia, dalle ciabatte all'iPod più sofisticato, dalla misticanza cellofanata al tartufo da acquistare tramite mutuo. Al mercatone ci si compatta, ci si confronta, ci si giudica. È lì che l'istituzione primaria della nostra società trova le sue conferme. Lì, al supermercatone, va nella formazione tipo papà, mamma, figlioletti, nonno, quando c'è. Anche nei giorni di festa, che i mercatini, i mercatoni non rispettano. I componenti della famiglia si distribuiscono nei reparti di quelle megastrutture, i bambini al reparto giochi, il nonno vicino ai surgelati se è estate perché fa più fresco. E i genitori all'interno si affannano alla ricerca di offerte speciali. Ma sono tutte speciali le offerte dell'ipermercato. È difficile decidere. La famiglia istituzione fondante della nostra società oggi va esaminata lì, in quel contesto, all'outlet che ha sostituito la Gorà e l'ha perfezionata. Ecco perché è successo quello che è successo. La polemica che ha degenerato è partita da lì, da un mercatone che si pubblicizzava attraverso un manifesto che molti hanno voluto interpretare con malizia. E d'altronde la pubblicità ha malizia perché il suo scopo è sempre altro. Ora il manifesto, l'avrete visto, l'hanno pubblicato sui giornali, rappresentava due persone dello stesso sesso con la mano nella mano. Un tentativo promozionale per ampliare il mercato e aprirlo a ogni tipo di coppia. Un invito all'acquisto, non alla deboscia. Come l'hanno giudicato le persone normali, le persone come noi. Ma qualcuno ha pensato fosse un'occasione per fare propaganda, rilanciare pregiudizi, invitare alla polemica. Naturalmente questa iniziativa è stata presa dalla politica, da quella parte della politica legata a un passato malizioso quanto codino. L'omofobia è un argomento ancora sfruttato da chi per carenze ideologiche pensa di dover ricorrere allo scandalo. Due persone dello stesso sesso si tengono per mano. Questo non piace ad alcuni che vogliono decidere per tutti su tutto, anche sulle preferenze sessuali. Ma questo ai vecchi politici non lo si può concedere. Per ragioni di principio, per difendere la propria libertà discenta, perché non si può perseguitare chi non ha i nostri gusti, insinuando nella diversità di opinione una patologia. Non la pensi come me? Sei malato. Vai al supermercato mano nella mano senza chiedere a noi se è giusto o sbagliato? Why? Eccola la politica che vuole impicciarsi delle scelte di tutti, sani e malati. Come si permettono questi signori che per averla vinta ricorrono alla denigrazione? Stiano al loro posto, rispettino per chi vive civilmente le proprie scelte. Forse vale la pena di chiudere qui questa imbarazzante ulteriore iniziativa della vecchia politica, ricordando a quei negatori di libertà la debolezza della stessa e la bellezza. Dice il poeta Sandro Penna, che non si sarebbe molto turbato per quel manifesto, felice chi è diverso essendo egli diverso, ma guai a chi è diverso essendo egli comune. Un po' di leggerezza poetica per allontanare la pesantezza e la volgarità della vecchia politica. Buongiorno.